Le donne ne ho conosciuto, non durante la Resistenza, ma subito dopo. Tre o quattro partigiane, ho le fotografie a casa. Quando ero ricoverato, perché? Superato il periodo della Santa Corona, dove sono stato operato, mi hanno portato via dall'ospedale San Paolo perché mi volevano tagliare il braccio. C'era un primario, si chiamava Giuliani, che lui ha detto amputiamo, amputiamo. Mio padre sul suggerimento di un altro dottore mi ha portato a Santa Corona e il braccio me l'hanno salvato. È rimasto un po' malandato, però me l'hanno salvato. Poi finito questo periodo mi hanno mandato per tre mesi, mi ricordo, più o meno, all'hotel di Albissuola, come si chiama, ora cambia se non mi viene in mente il nome. Vanda. Vanda, bravo, 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 il Vanda, il Vanda. Sono stato tre mesi lì ed eravamo 70, 80 persone, forse anche 100, tutti partigiani, dei quali ce n'erano parecchie donne, ragazze che erano rimaste ferite, che erano ammalate, che avevano superato i momenti, Liguri, Piemontesi, ce n'erano un po' di tutte le... Ma io ho trovato delle donne eccezionali, insomma, sono diventate poi madri eccezionali, avevano passato, si sono poi fatte anche sposate con partigiani, eccetera. Una solidarietà, un'affettuosità che oggi mi manca, ma credo che non esista più da nessuna parte, il mondo è cambiato, è cambiato l'uomo. Le donne, ma ne ho conosciute anche altre, mi ricordo una di Lavagnola, adesso i nomi non me li ricordo, che faceva la staffetta, che avrebbe dato la vita per qualunque occasione. L'ha superata, finita la guerra, sono diventate delle madri eccezionali, madri e spose proprio eccezionali. Più non posso dire, ecco, io penso che la donna nella resistenza abbia avuto una parte determinante. basta leggere poi tanti libri, vediamo, sono state infermiere, combattenti, madri, ma vediamo un po' le nostre martiri di Savona, la Lanzoni, la Comotto, adesso i nomi, la Negri, che le hanno anche massacrate di botte, le hanno torturate e non hanno parlato. Una donna è sempre, dicono, più debole dell'uomo, invece ha dimostrato che può essere a volte anche più forte dell'uomo, purché creda in un ideale, questo è l'importante. Il vantaggio delle generazioni scorse è che avevano degli ideali. Oggi purtroppo devo dire che, mi sembra, vorrei sbagliarmi, ma che non ci siano più, che ci siano calati questi ideali. La gente è più legata alle cose materiali, alla ricchezza, al benessere, al non far niente, al vivere bene, fatto salve, alcune eccezioni. Non è colpa loro, secondo me sono state poi educate volutamente a questi principi. Perché invece una volta no, prima c'era l'ideale, c'era la famiglia, c'era il sacrificio, c'era l'onestà, la dignità. Pensate al significato della parola dignità, c'era chiuso tutto. Una volta spendiamo centinaia di parole nel parlare di benessere, di malessere, di libertà. La dignità, quando si dice una persona degna, è massimo. Oltre non si può andare. E dignità vuol dire essere sinceri con se stessi, con gli altri. E se stessi onesti, essere onesti. Oggi è una materia che scarseggia un po'. Io mi auguro che il malessere di oggi faccia ripensare alla gente e la riporti in un mondo diverso. Non lo so, ormai l'età che ho mi lascia poche speranze. Quindi lei pensa in qualche modo che, diciamo così, anche gli ideali della resistenza al giorno d'oggi siamo stati in qualche modo traditi? Secondo me, e questo è un pensiero personale, so che non trovo l'approvazione di tanti. Io temo che, e me lo sono sempre chiesto e non mi sono mai dato una risposta. Adesso potrei darmelo, ma è tardi. Perché, finita la guerra, non si è messo in risalto, come hanno fatto in certi stati, in risalto i valori della resistenza? Se ne è cercato di attenuarli, si è cercato di mimetizzarli, si è cercato di attenuarli. Io penso che ci siano stati nella resistenza dei fatti che abbiano anche delle critiche che ci siano da criticare, che ci siano stati di errori, ma per l'amor di Dio, qual è la rivoluzione o la guerra che non ha portato con sé anche delle cose sbagliate? Ma non averne valorizzato, non averne parlato per anni, subito dopo la guerra, io so che c'erano dei politici i quali dicevano che non bisognava esaltarne troppo perché si cercava la pacificazione, perché l'Italia era divisa in due, bisognava, la gente era a pacificarla, perciò non bisognava, come si dice, attizzare questi ricordi, bisognava cercare di spegnere, anzi. Per me è stato un errore, si poteva farlo senza creare odi, senza esagerare, però nelle scuole, nella stampa, nella cinematografia, nella radio, i politici stessi avrebbero dovuto parlarne di più, farne materia di studio continua, invece è stato degli anni di vuoto e sperando che il nemico, che l'avversario, non voglio chiamarlo nemico, sperando che l'avversario fosse tanto buono da cancellare il passato, no, l'avversario ha approfittato, approfitta di questa situazione e cosa fa? Lui non ha dormito, lui ha creato, qui non mi dispiace fare dei no, ha creato dei personaggi, ha creato delle situazioni che lo vediamo oggi, si parla di nuovo di Boiacimolla, di Monumento a Graziani, di Pansa che criminalizza il movimento partigiano e non parla mai del male del patriarcista, insomma, questi ricordi sono di nuovo lì pronti a recuperare il terreno che hanno perduto, e noi abbiamo saputo invece a suo tempo insistere su questa, non sarebbe servito, beh, questo non lo so, non veniamo a provarci, non ci abbiamo provato, perciò io mi auguro che vengano meno anche questi vecchi, che ancora parlano del ricordo, del ricordo dei vecchi avversari, voglio dire, e che si ritorni a un clima più sereno, se no non vogliamo parlare, non parliamone, ma non parliamone da ambo le parti, non che da una parte se ne parla poco, dall'altra invece si cerca di attizzare, si cerca di fomentare gli odi e le cose, colpevolizzando, criminalizzando, ma sono stati milioni, migliaia e migliaia di morti, trucidati, appesi agli alberi, massacrati, mandati a combattere nei paesi più lontani, di questo sembra, a questo caso, che non sia avvenuto niente, poi continuo a parlare di quelle piccole cose che denigrano, se è possibile, denigrano il movimento partigiano, dove è stato un errore, non averlo subito dopo la guerra, non averlo invece valorizzato di più, quando erano ancora vivi molti di quelli che avevano sofferto, adesso mette male anche, perché c'è più nessuno quasi, si vive solo di vaghi ricordi, invece bisognava tenerla viva, sempre viva questi fatti, andavano tenuti vivi sempre, mi auguro che piano piano si riprenda un po', spero che i mezzi di comunicazione, la televisione, nelle scuole si riprenda un po' di questi ricordi, perché altrimenti, addio, ciao, torniamo ai tempi una volta.